Benvenuti nel canale Fabio Pecce se il video ti piace farcelo sapere con un like. Oriana Marzolli spopola in Spagna e precisamente a Madrid. Mediaset ha ingaggiato Oriana di fare l'opinionista la versione spagnola dell'isola dei famosi chiamata Supervival Stivo. L'edizione spagnola sta andando in onda in contemporanea l'isola dei famosi italiana. Il format è identico non cambia nulla neanche la sceneggiatura. Oriana essendo spagnola è stata messa nel programma a fare l'opinionista e viene accolta con gradi applausi dal pubblico che già seguiva Oriana per le sue precedenti partecipazioni aereali. Nel frattempo Daniele Dal Moro sta facendo un giro per Madrid in auto. Non perderti altri aggiornamenti iscrivendoti e attivando la campanella. Niente ragazzi allora solo per informarvi che mi sono perso e quindi ci vediamo in giro per Madrid. e quando i feel like this i'm a royal e quando i feel like this